Gentili telespettatori, buona giornata. Ci sono le conseguenze. Il Covid, e c'è Covid, e c'è il Green Pass, e ci sono tutte le restrizioni, c'è la crisi internazionale, e i turisti fuggono da Roma e un po' da tutta Italia. Falliscono fallimenti a tappeto degli hotel. Alberghi e hotel in vendita a prezzi stracciati, finiscono magari anche all'asta, perché dopo il fallimento finisci all'asta per pagare i creditori. La mancanza prolungata di due anni di turisti, per la città, ad esempio la città eterna, si sta rivelando una vera e propria sventura per i titolari di strutture ricettive. E' noto che a Roma era difficile trovare un albergo, o trovare magari l'albergo dove volevi andare tu. Io ogni volta che prenotavo a Roma, eh siamo al completo, eh qui, no, è qui, è là, insomma. Adesso dalle strutture alberghiere sempre piene a Roma si è passati ai fallimenti a catena. Soprattutto hotel ubicati magari nella zona centrale, dove il turismo 4 o 5 stelle è assolutamente crollato. Rischia addirittura il turismo quello danaroso, quello che è formato da persone molto abbienti, potrebbe completamente azzerarsi a favore del turista italiano normale che va a Roma a farsi la gita al fine settimana e certo non può andare nel 5 stelle L. Sapete che esiste anche il 5 stelle L, che è il 5 stelle lusso, quindi è un 5 stelle più. Ecco, insomma, quindi il turista dice che è 5 stelle lusso, ma quale 5 stelle? Mi serve un normale 3 stelle perché io vado a vedere la città, non vado a vedere l'hotel. Ecco, la conferma arriva anche dal centro studi Sogea, che ha analizzato il numero di alberghi in Italia andati all'asta e ha evidenziato come il Lazio, Roma, epicentro di questo fenomeno, sia la terza regione con più strutture in procedura fallimentare dopo Sardegna, Sicilia e Toscana. E queste sono le regioni più turistiche, attenzione, molti alberghi invece in altre zone, tipo il Veneto, io quando andavo per lavoro che avevo il rappresentante, andavo in alberghi che non erano propriamente turistici, erano alberghi per chi lavora, il classico 3 stelle dove tu ti fermi, dormi, fai la colazione e poi vai a lavorare. Quindi nel resto d'Italia molti alberghi sono più sul business di chi va in giro per lavoro, mentre a Roma, Sicilia, Sardegna e Toscana la preponderanza sono strutture per turisti, mentre nelle altre ragioni, come vi dicevo, è più il lavoratore in trasferta del turista. Ecco, questo ve lo posso dire per esperienza personale, ma tu cosa ne sai? Lo so e basta, lo so e basta, come quando Calboni gli dice a Fantozzi, Cornuto dice a Fantozzi, lei come lo sa? Lo so e basta. Ecco, come accade nel comparto residenziale, spiega il professor Sandro Simoncini, presidente di Sogea e direttore del centro studi, anche in questo caso a pagare dazio sono soprattutto le realtà imprenditoriari di dimensioni contenute. Il 55% dei complessi turistico-ricettivi finiti all'asta a un prezzo inferiore al milione di euro, una quota del mercato assolutamente in linea con quella rilevata nello studio di luglio del 2021. E così all'asta ci vanno case vacanza, bed and breakfast, alberghi, che si trovano in centro in quartieri come l'Esquilino, dove la percentuale di recettività è piuttosto alta, le strutture ancora chiuse sono tante. Federalberghi stima che ce ne siano almeno 320 che hanno cessato di ospitare clienti da oltre un anno. Alcuni stavano pensando di riaprire nelle prossime settimane, spinti dall'ottimismo, che è il profumo della vita, dalle prenotazioni, per Pasqua. Ora però tutto è tornato fermo. Di questi alberghi che non lavorano, il direttore di Federalberghi Tommaso Tanzilli teme che un discreto numero non riaprirà più e purtroppo ci andranno di mezzo gli occupati, come già sta accadendo. La situazione nel comparto è piuttosto grave e sono in tanti a pensare di vendere e dare via l'albergo per non continuare a pagare costi che non possono più permettersi. Sono convinto io personalmente che gli alberghi ritorneranno al numero precedente dopo la crisi, data la domanda, visto che dopo la crisi con tutti questi alberghi chiusi, andare a fare una vacanza a Roma e trovare un posto in un albergo dopo che finiranno queste crisi, perché finiranno, sarà impossibile. Allora nasceranno nuovi bed and breakfast e si ricoprerà l'occupazione. Questo è il ciclo economico, come lo spiego ai miei alunni. Chiudono, 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 quando hanno chiuso tutti poi bisognerà riaprire, 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 perché il ciclo economico torna sempre, ecco, quasi sempre. A meno che ho cose che sono irreparabili, speriamo di no. Bene, intanto io vi racconto che quando andavo a Roma per lavoro, per turismo, io andavo dalle suore, dalle suore mi ricordo che si pagava come tipo 20 euro, 25 euro. C'erano le scuole tedesche che io telefonavo, pronto suora, ja? Dico, come ja? Ja, rispondevano ja? Ja, tanke bitte kutenave? Bene, perché se voi telefonate alle suore tedesche a Roma vi rispondono ja? Dice ja una fava, no? Perché lì mi ricordo che sono in centro, una villa antichissima con le suore, paghi poco, però non c'è né ristorante né colazione, ti mettono lì una macchinetta che ti dà le merendine con la monetina, non hai televisione, non hai niente, però a un certo orario ti chiudono la porta, tipo alcune di queste suore, di queste strutture, alle 11 ti chiudono la porta, oppure a mezzanotte, dipende, e poi vogliono vedere se tu vai a dormire, se sei sposato, se sei fidanzato, ti guardano un po', non piace, ecco. Adesso si stanno evolvendo anche loro, quasi non ti chiedono più se sei sposato o fidanzato, perché, capite, no? Ecco, quindi io ero andato in due o tre strutture delle suore, perché così risparmiavo qualcosa, nel senso, ce ne sono anche fuori Roma, cos'erano le suore ausiliatrici, le suore ausiliatrici e le suore tetesche, che sono in centro a Roma, quelle che mi hanno risposto, «Pronto, suora, ya?» Io ho detto «Ya, ya? In che senso, ya?» «Ya, boh, ecco, insomma». E poi si sentiva che tu parlavi in italiano e dice «La camera è disponibile dal 24, ya?» «Sì, suora, comandi, suora». Ecco, se volete risparmiare qualcosa, non me ne vogliano gli albergatori, ma con le suore, che le suore non falliscono, non sempre c'è posto, è perché sono richiesti quei posti lì, perché chi vuole andare a farsi una vacanza a Roma, con venti, adesso non so, avranno alzato i prezzi anche le suore, perché l'inflazione è galoppante, però ci sono degli ordini religiosi, delle congregazioni. Vabbè, arrivederci a tutti e grazie.